La gestione delle controversie bancarie e finanziarie è stato l'argomento discusso nella tavola rotonda organizzata dal Dipartimento di Economia, Gestione, Società e Istituzioni. Responsabili scientifici dell'evento i professori Stefania Giova, presidente del corso di laurea in Economia Aziendale, ordinario di diritto privato, e Alberto Franco Pozzolo, ordinario di Economia Politica. In particolare si è parlato dell'arbitro bancario finanziario, ABF, e sostenuto del suo funzionamento dalla Banca d'Italia ed operativo dal 2009. Ascoltiamo sull'argomento due dei relatori, Ida Mercanti, sostituto del capo servizio tutela dei clienti e antiriciclaggio della Banca d'Italia, e Francesca Palisi, responsabile ufficio ordinamento finanziario dell'ABI. Dottoressa Mercanti, com'è cambiato il rapporto nella gestione delle controversie tra banca e clienti con l'introduzione dell'ABF? Beh, è cambiato diciamo dando più strumenti al cliente per tutelarsi nel rapporto con la banca, nel senso che in precedenza c'era solo l'ufficio dei reclami della banca oppure l'autorità giudiziaria. L'arbitro invece è uno strumento ulteriore, molto semplice da utilizzare, non richiede la presenza, l'assistenza di avvocati, costa poco perché costa soltanto 20 euro per poter, appunto, il costo per presentare ricorso, e risponde e dà una decisione, una pronuncia secondo diritto in tempi molto brevi, molto più brevi di quelli della giustizia civile e comunque, diciamo, definiti, che tra l'altro si ridurranno ancora quando verrà attuata la direttiva ADR che è stata approvata e implementata nel nostro sistema, nel nostro ordinamento da pochi mesi. Quando consiglia, in che situazione le consiglia di rivolgersi all'ABF? Beh, ogni volta che un reclamo non ha trovato soddisfazione nella risposta che ha potuto dare la banca o la società finanziaria, si tratta, diciamo, le controversie più frequenti riguardano carte di debito o di credito, riguardano contratti di finanziamento come il mutuo, come la cessione del quinto, quindi tutte le controversie e motivi di contrapposizione con le banche che traggano origine, diciamo, dai contratti che il cliente stipula con le banche. La dottoressa Palisi, il rapporto tra imprese e sistema creditizio, come l'ABF ha favorito il miglioramento di questo rapporto? L'ABF sicuramente ha favorito il rapporto nel senso che, essendo uno strumento in mano alla cliente per far valere meglio e in modo più deciso le proprie ragioni nei confronti della banca, può costituire un ulteriore canale per continuare a dialogare e anche per risolvere prima, diciamo, dell'arrivo eventuale in giudizio una problematica che è nata nel loro rapporto. Insieme all'ABF, io vorrei ricordare, esistono anche altri strumenti di soluzione alternativa delle controversie, che sono organismi, diciamo, creati da soggetti privati e che, al pari di ABF, vanno attivati prima di andare in giudizio. Quindi è il tema della condizione obbligatoria di procedibilità dell'azione in tribunale ed è un sistema che anche questo sta dando dei buoni frutti e dei buoni risultati nell'ottica, ripeto, non di irrigidire il rapporto tra banca e cliente, ma nell'ottica di creare nuovi strumenti e nuovi canali di comunicazione prima di approdare eventualmente quando le posizioni non riescono a conciliarsi di fronte ad un giudice.